Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, attenzione che tu, tu coventi, perché Dio dà la fede, ma tu, tu puoi dare la testimonianza di fede. Dio dà il don di speranza, ma tu, tu puoi fare in modo, che un che all'era disperata, con il tuo modo di la donna, con le speranze e anche con il tuo aiuto, tu lo fai sperare. Dio dà l'amore, sì, sì, ma tutto sei proprio te, la prolunga è dal suo amore. Dio dà la fuorce, anche tu, tu puoi dare, con tue parole di consolazione, di incoragliamento. Dio dà la pazza, ma tu puoi fare tanto anche tu, e pariessi in pazza dentro di te, prendi tutto, e dopo per mettere in pazza altre persone. Dio dà la strada, e tu tu puoi dimostrare la strada, e tu puoi fare insieme a chi altri, la strada che è nella di lui. Dio dà la luce, e tu, tu puoi fare insieme a chi altri, che sono donne di te, con il tuo modo di stare donne. Dio dà la vita, e tu tu puoi fare tornare la voce di vivere, in tu che propite alle reatiare. Insomma, Dio ha fatto l'impossibile, e lo poteva fare di solo tutto. No, no, Dio l'ha voluto, vi ha bisogno di noi, di te. Buone giornate e buone vite.